Bandiera a mezz'asta questa mattina, in memoria delle vittime del Covid-19, è un minuto di raccoglimento del sindaco Massimo Tiberini davanti al municipio di Casoli, a nome dell'intera comunità casolana. Sindaco Tiberini, quale messaggio vuole dare ai cittadini in questa giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia? Sicuramente che, buongiorno a tutti, le immagini indelebili abbiamo nella nostra memoria sono quelle di Bergamo, di quei camion, di quelle morti, di quelle bare. E queste immagini probabilmente le porteremo nella nostra storia e per la nostra vita. Oggi, con questo minuto di raccoglimento, vogliamo ricordare tutti i sanitari, le persone che sono scomparse, i familiari. Vogliamo ricordare la sofferenza che stiamo tuttora vivendo. Purtroppo non possiamo assolutamente abbassare la guardia e dobbiamo continuare a mantenere un comportamento corretto e lineare. I vaccini, il vaccino, sarà sicuramente la soluzione a questa pandemia. Ed è proprio per questo che dobbiamo vaccinarci tutti, che dobbiamo far sì che questo vaccino sia a disposizione di tutti il prima possibile. Dobbiamo avere molta fiducia delle istituzioni e sicuramente il nostro comportamento deve essere conseguenziale a far sì che il Covid non cammini sulle nostre gambe e non ci possa contagiare.